I giudici della Cassazione, in merito alle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 28 gennaio hanno dichiarato inambissibile il ricorso della Procura Generale di Napoli contro la decisione della Corte d'Appello Partenopea, che in sede di revisione del processo assolto dopo 26 anni di reclusione Cosimo Commis o classe 1950, si sono così espressi. La Corte Napoletana ha proceduto a una valutazione specifica e complessiva di tutte le prove, da quelle già acquisite a quelle nuove. E in vero la motivazione del giudice d'Appello appare affatto carente o contraddittoria, né viziata da manifesta illogicità, concretizzandosi piuttosto in un approfondito percorso argomentativo, articolatosi attraverso una serie di passaggi coerenti che conducono a smentire il fulcro dell'assunto accusatorio rappresentato dall'attermata qualità di capo clan in capo a Cosimo Commis. Ricordiamo che il Quadia, per gli acquirenti appartenenti alla famiglia di Siderno, è stato accusato di essere il mandante di 5 omicidi e 3 tentati omicidi, tra il maggio 1989 e il luglio 1991, nell'ambito della faida di Siderno. Originariamente venne condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Carabba alla pena dell'ergastolo, poiché è ritenuto responsabile ai vertici della gerarchia mafiosa del clan.